Salve, qui c'è Marco. Oggi vi spiego come potete inserire delle immagini su iMovie. Io ho l'iMovie 10.1.6, l'ultimo che è uscito, e lì avete la possibilità di inserire delle immagini. Guardate questo video che vi spiego come va. Ciao, parco. Così, adesso ci siamo. Io qui ho inserito un M.O.I. divertente, vedete, lì a destra, e dopo, per il pollice su, ne ho messo uno a sinistra. Queste sono le due immagini che vi faccio vedere come potete inserire. Guardate il prossimo video adesso a seguito. Grazie, ciao, parco. Bene, adesso vi voglio far vedere come potete inserire iMovie. Allora, ho preparato qui delle immagini, qui c'è il video, vedete, abbasso un po' il volume, questo qui è il video, e qui vorrei inserire qualcosa. Allora, diciamo, prendiamo questo elefante qui, per inserire questo elefante dentro il video, lo tiro giù, dall'iMovie, lo inserisco qua, dove voglio, e dopo, qui sopra, devo tagliarlo, qui. Non verso giù, così, questa parte, e vi posso dirlo in italiano, devi adattarlo in italiano, però è uguale da voi, in italiano, su questa parte. Schiacci questo pulsante, e ti esce così. Dopo, quando schiacci qua, che dice, c'è l'immagine, questa parte qui, prendi questo qui sopra, e inserisci questo qui, build in build, vuol dire immagine dentro l'immagine. Schiacci questo qui, e l'elefante diventa, diventa piccolo, e va dentro, dentro il video. Tu puoi anche, dopo ringrandirlo, farlo più grande, più piccolo, dove vuoi, lo puoi spostare dove vuoi, e dopo, anche la durata, quanto ti, lo vuoi tenere dentro, te lo fa vedere in secondi. Bene, questa è la prima immagine, andiamo avanti, basso qua un po' il volume, prendiamo qui, questo qui, il pollice, per far vedere che un video è bello. Inseriamolo qua, la durata, circa di, diciamo, 7 secondi, più o meno, e lo ritagliamo in questo modo qui, tac, taglio unico. Dopo, andiamo su questa parte, foto in foto, dentro qui, e riposizioni qua, il pollice, faccio un po' più grande, per far vedere, bene, già inserito, vedete, facilissimo. Cosa facciamo con questo emoji qua? Lo tiriamo giù, tac, vedi che adesso, adesso, se lo guardi così, non va bene. Allora, ritagliamo tutto quanto, così, dopo, mettiamo l'immagine dentro l'immagine, schiacciamo l'immagine dentro l'immagine, e ti esce così. Vuoi fare più piccolo? Facciamo più piccolo, più grande, come vuoi, sposti qua, o qui. Ok, pronto. Guardiamo tutto, qui, alziamo un po' il volume della musica, passiamo più su qua, così, vieni. Via, vediamo che succede. Perfetto, arriva l'elefante piccolo, rimane lì. Dopo, il pollice su, che abbiamo inserito. Adesso, arriva l'immagine, perfetto. E dopo, l'ultimo. Sono delle immagini che ha fatto mia figlia a Sri Lanka, con l'elefante. Perfetto, adesso l'emoi. Benissimo. Se ti è piaciuto il video, dammi anche un pollice su, e poi ci vediamo. Ciao, grazie. Ciao, ciao, Marcotti. Marco. Ciao, ciao.